Buonasera a tutti ed eccoci di ritorno dal campionato italiano senior che si è corso questo weekend a Faenza. Diciamo che io partecipo alla MX1 Veteran, diciamo che è stato un weekend quasi perfetto, ci siamo divertiti tanto e abbiamo dominato le prove, le qualifiche, il warm up, prima manche, purtroppo la seconda manche, ho fatto un errore dovuto da una partenza non brillante per cercare di recuperare quando più velocemente sono scivolato e ho perso del tempo per rialzarmi, purtroppo la moto non partiva e ho perso un po' di tempo, però mi sono divertito tantissimo perché ho recuperato fino alla seconda posizione un buon ritmo di gara e niente, ci vediamo alla prossima. Voglio ringraziare tutte le persone che ci danno una mano, il team fuori giri di Caserta, Sguarna, 3D Graphic, Poletti Sospensioni e un abbraccio forte alla mia pilotessa preferita, Chiara Fontanesi. Un abbraccio a tutti, buona serata.